buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale o benvenuti sul mio canale oggi non è domenica ma è martedì e stiamo andando io e mi amico con la z800 a fare un corso di guida a castelletto di branduzzo in un circuito piccolino vicino a pavia e eccole lì lo scontro fra tritani uno a 97 all'ora e l'altro a 98 ma che ti sorpassi ce l'ha fatta ora come al solito c'è un po d'autostrada un'oretta perfetto abbiamo fatto il briefing ci ha dato consigli spiegato cose e ora entriamo per fare primo turno lo facciamo con calma per vedere le traiettorie e io ho l'ansia tanta ansia troppa che schifo a destra mi sento un disabile anche io porca p***a mi manca tanto eh? mi manca tanto a me? a me no a destra? no a figa ci avrai tanto così ok fatto il briefing c'è il briefing le varie correzioni del caso ora si rientra per un altro turno crediamo di non fare schifo turno crediamo con calma per un altro Grazie a tutti 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 Grazie a tutti